Una banda specializzata nelle rapine che aveva messo a segno due colpi nel messinese di grande clamore è quella smantellata stamattina dalla squadra mobili di Messina sotto la direzione del procuratore della Repubblica del Tribunale di Barcellona Emanuele Crescenti. Gli agenti hanno notificato se misure di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del Tribunale di Barcellona Salvatore Pugliese su richiesta dei sostituti procuratori Sara Cagliazzo e Alessandro Librino. Con l'accusa a vario titolo di tentata rapina aggravata, lesioni personali aggravate, porto illegale di arma e rapina aggravata sono finiti in carcere Vincenzo Nunnari, 60 anni, Salvatore Di Paola, 19 anni, Giovanni Cortese, 43 anni, Rosario Mazza, 62 anni, Antonino Mascarese, 46 anni e Mirko Silvestri, 34 anni, tutti di Messina. L'attività di indagine è coordinata dalla procura della Repubblica di Barcellona trae origine dal tentativo di rapina avvenuto l'1 dicembre scorso ai danni della biglietteria degli Eliscafi Liberty Lines di Milazzo quando tre persone col volto coperto da armate di pistola hanno aggredito due guardie giurate che addette al servizio di trasporto valori alle olie trasportavano ingenti somme di denaro custodite in uno zaino ed in un trolley. In particolare uno dei malviventi colpì col calcio della pistola più volte una delle guardie provocandogli una ferita scomposta alla clavicola ed un trauma cranico. Grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza si era risaliti alla minicuper utilizzata dai malviventi. Le successive intercettazioni hanno portato i poliziotti sulle tracce di due guardie giurate, Rosario Mazza ed Antonino Mascarese, considerati i basisti. Mascarese, dipendente della Sicur Transport di Messina, tra l'altro la stessa mattina si trovava a bordo di uno dei furgoni della ditta che era partito contemporaneamente a quello sul quale viaggiavano le due guardie successivamente aggredite. Dalle intercettazioni si è poi risaliti anche alla rapina da 420.000 euro messa a segno ai danni di una banca di Barcellona quando un malvivente, travisato da donne ed armato di taglierino, si introdusse all'interno della banca. Ad agevolarlo, il dipendente Mirko Silvestri, che aprì la porta di sicurezza.